Sono Laura Antichi, vi presento Weebly nella versione free e un'applicazione per creare siti nell'ambito della formazione e dell'educazione. Perché creare un sito educativo? Per creare un sito di classe? Che permetta di pubblicare annunci, creare classi, postare assegnazioni, importare file, video, immagini, creare riferimenti ad altri corsi. Per creare un portfoglio di classe? Tenere memoria dei progressi della classe, delle verifiche, dei prodotti, delle lezioni. Per creare un portfoglio degli studenti? Per mettere in evidenza quello che si è fatto, i propri prodotti, i propri successi, le proprie attività? Ora ci colleghiamo al sito www.weebly.com e abbiamo la possibilità o di registrarci o di accedere direttamente. Con la registrazione lo faremo come teacher, come docenti. Io accedo, metto i miei dati. Accedi, faccio login e sono nella dashboard del mio Weebly e vedete che ho la possibilità con i miei studenti di creare innanzitutto la classe. Ad class, metto il nome della classe, quarta N, seleziono il grado, esempio post-secondary, decido se questo sito degli studenti è pubblico o privato, pubblico, create class. E qui aggiungo con ad studenti gli studenti della mia classe. Ritorno all'interfaccia della mia dashboard e aggiungo un sito. Aggiungi il sito. Ho la possibilità di scegliere un tema, un template, tra quelli in primo piano, negozio online, azienda, portfoglio, personale, evento e blog. Ne scelgo uno, tenendo presente che le proposte nuove che mi vengono fatte da Weebly sono responsive, ossia permettono di adattarsi ai diversi dispositivi con i quali accediamo al sito. Quindi è consigliabile non scegliere vecchi template. Vedete che ne ho diversi. Ad esempio, tra quelli che mi sono proposti, va bene, ne scelgo uno a caso, un template a caso, questo. Ebbene, tra quelli in primo piano, andiamo a quelli in primo piano. Questo era anche carino. Mi chiede di scegliere un dominio. Utilizzerò un sottodominio di weebly.com perché ho scelto l'opzione del free, di quindi costruire un sito che sia non a pagamento. E gli altri, se volessi registrare un nuovo dominio, collegare un dominio che già possiedi, dovrei avere un account premium. Qui metto il titolo del mio sito, prova 3 di Laura, ad esempio, di Laura. Vediamo se è disponibile, me lo dà disponibile. Quindi il mio sito avrà come intestazione prova 3 di Laura. E faccio continua. E qui posso modificare lo sfondo con un'immagine. Con, ad esempio, un'immagine, il colore, il video. Ok. Quindi, posso anche sostituire il layout della mia intestazione. Posso, quindi, caricare una foto dal mio computer, oppure trascinarla sempre dal mio computer. Ad esempio, vabbè, trascino una foto qualsiasi dal mio computer. E, come vedete, il layout, l'intestazione è modificata. Faccio, salva. Non è una bella foto, vabbè, era per esempio. E poi, ho un compila, sempre ho una barra laterale sinistra. E in questa barra ho la possibilità di inserire da questa barra gli elementi, il titolo. Ad esempio, sempre attraverso il trascinamento. Clicco qui per modificare. Questo è il titolo. Ok, che posso poi formattare a mio piacimento con le opzioni del cambio a colore, del grassetto, eccetera, eccetera. Era già in grassetto. Posso poi aggiungere, ad esempio, un divisore, un separatore. Posso aggiungere, posso aggiungere del testo. Ok, qui clicco per modificare. Questo è il contenuto, ad esempio. Posso inserire delle immagini, sempre attraverso il caricamento dal computer, oppure trascinando le foto dal mio computer. Vediamo una qualsiasi. Ok, ne ho aggiunto una. Posso, come vedete, posso aggiungere, oltre all'immagine, una galleria di immagini, una presentazione, una mappa, un modulo, un modulo di newsletter, un modulo di assegnazione, un pulsante e un codice embedded, ad esempio, se volessi inserire delle slide share attraverso il codice. Ho la possibilità di aggiungere una nuova struttura, un divisore, come abbiamo visto, o un distanziatore. Nei media posso aggiungere dei file, posso aggiungere file, un documento, un video YouTube, un file flash e un file. Ho anche delle opzioni e-commerce, interessante, che posso aggiungere delle icone social, sempre attraverso il trascinamento. e l'ho messo qui in mezzo e posso aggiungere un'indagine, un modulo e varie funzionalità. Quando trovate delle funzionalità contrassegnate da un'icona gialla, vuol dire che sono nel premium e che non possono essere inserite. Come vedete qui, questi media non li posso inserire con queste opzioni. Queste sono le opzioni base. Poi è interessante che posso aggiungere delle pagine al sito, che posso visualizzare o non rendere visibili, con il più aggiungo un'immagine, che può essere un'immagine standard, una pagina del blog, una pagina esterna o un menu non cliccabile. Aggiungiamo quindi una pagina, ad esempio, del blog, metterò il titolo, invece di chiamarla posso sostituire naturalmente l'immagine, l'intestazione del blog, posso nascondere questo blog alla navigazione, posso scegliere se anche non mettere un reader, nessun reader, invece di mettere e lasciare questa intestazione posso anche toglierla, visibilità lo rendo pubblico, come vedete le impostazioni SEO, non lo chiamo blog, tanto per vedere la funzionalità potrei chiamarlo EAS, questo blog, e come vedete fa, nel momento in cui ho cliccato fatto, compare la pagina, la nuova pagina del mio blog, ritorno, poi posso sempre ritornare in home, come vedete, posso cambiare il tema, quindi modificare la luce, modificare il tema, cambiare il carattere, le opzioni del tema, ho delle opzioni del tema, e posso, faccio vedere l'impostazione soltanto, in impostazioni mettere tutti i dati, invece del mio sito metterò, mettiamo EAS, EAS come titolo, e che verrà mostrato, questo titolo è una parte superiore di tutte le pagine, poi una volta che ho finito di inserire tutte quante le funzionalità, faccio pubblica, e il mio sito, con continua ho la pubblicazione del sito, e se vado nella, poi all'indirizzo che mi dà, vedete l'indirizzo, posso visualizzare quindi il mio sito. Ecco, queste sono le funzionalità.